Qui alla BB Music sta iniziando il corso di musica elettronica su Ableton Live. Le lezioni si incentreranno su tutti gli aspetti della produzione, dall'arrangiamento fino alla distribuzione. Il percorso forma la produttoria musicista permettendogli di competere nel mondo professionale. Verrete eseguiti da Giuseppe Fusco, tecnico del suono, producer e label manager con esperienza pluriannale. Basta a trovarci a Viale Giuseppe Mazzini 123, Roma. Basta a trovarci a Viale Giuseppe Mazzini 3, Roma. Basta a trovarci a Viale Giuseppe Mazzini 3, Roma. Basta a trovarci a Viale Giuseppe Mazzini 4, Roma. Scupani Mazzini 3, Roma.